E' iniziato il countdown per l'arrivo in Molise di Johnny Winter, guest star del Macchia Blues targato 2008. Per il bluesman americano quella di Macchia di Senna è l'unica tappa del mezzogiorno ed è il sesto concerto in Italia dopo Pistoia, Perugia, Cagliari, Asti e Padova dell'estate in corso. Il Macchia Blues nasce nove anni fa ed è oggi divenuto uno tra i festival che almeno nel sud della penisola riscuote maggiore successo. Il plauso per l'organizzazione dell'evento che porterà mercoledì 30 luglio sul palco scenico allestito in località Trinità Johnny Winter e che vedrà esibirsi nei giorni successivi fino a sabato 2 agosto. Altri importanti nomi del firmamento del blues internazionale va a 12 ragazzi, membri dell'associazione Fenice come ha riferito il sindaco. Sicuramente Macchia ne verrà fuori con una promozione enorme ma io direi che non è solo Macchia ma tutto il Molise a questo punto perché questo festival oramai ha preso talmente il volo che in tutta Italia se ne parla arrivano telefonate tutti i giorni e mail. Attorno alla serata di mercoledì ruotano numerosi altri eventi musicali come ha riferito uno degli organizzatori Elenio Cicchieri. A parte il concetto di Johnny Winter poi non c'è da dimenticarsi che ci sono altre tre giornate in piazza che richiamano la caratteristica fondamentale del Macchia Blues ovvero ai piedi del Palazzo Baronale nel centro storico quindi più lo spirito blues vero e proprio. Naturalmente spero che tutti i giovani e tutti gli appassionati si possano divertire come ogni anno. Devo dire che è una sorta di ciliegina sulla torta, è un momento storico per il Macchia Blues che si pone con questa proposta con Johnny Winter che è uno dei grandi partecipanti e fondatori anche di Woodstock che si pone naturalmente come punto di riferimento di festival blues sicuramente nel Mezzogiorno d'Italia. Grazie a tutti.